Sono alcuni elementi sui quali sto lavorando già da un po' che mi portano a ritenere che ci sia stato un elemento soprattutto trascurato e dal quale si può aprire sicuramente una nuova pista. Un elemento sul quale si sta indagando da tempo, un elemento che presto potrebbe portare ad una svolta il caso di Marianna Cendron, la diciottenne scomparsa nel nulla esattamente dieci anni fa. Il procedimento formalmente è stato archiviato ma l'avvocato è ottimista, non appena le indagini lo consentiranno indicheremo al procuratore un nuovo punto di partenza. Dare una dentistica non sarebbe corretto da parte mia, certamente l'elemento su cui mi è tornato l'occhio è abbastanza importante. Non si sbilancia l'avvocato Tigani, non scopre le carte, è una pista sulla quale stanno lavorando da tempo. Io sono abbastanza fiducioso comunque perché è una storia che non può finire così, non è accettabile né per i familiari né per noi professionisti né per l'associazione Penelope stessa che non ha mai mollato su questo punto. Il 27 febbraio del 2013 Marianna dopo essere uscita da lavoro è svanita, le indagini, le ricerche non avevano portato a nulla, il suo corpo non è mai stato trovato. Da allora mamma Emilia e papà Pierfrancesco non si sono mai arresi. È quello che ci tiene in vita la speranza e ci mancherebbe. Bisogna essere presenti, bisogna essere qui. Come ho detto prima spero mi suoni il campanello, come mia moglie ha detto che lei l'ha sognata con una bambina. Io non la sogno però in cuor mio sicuramente la sto aspettando. I genitori hanno scritto una lettera, si sono rivolti proprio a lei, Marianna, le parole della mamma. Marianna noi siamo qui, qualsiasi cosa sia successo noi siamo pronti a ripartire, a ricostruire. Ti vogliamo bene.